Un cordiale saluto a tutti, martedì 10 gennaio 2012, è da tempo che non ci vediamo, purtroppo il lavoro, gli impegni e tante menate mi hanno impedito di poter fare questi video con continuità e io spero sempre di poterli comunque fare con continuità, anche perché vedo che a quanto la nomina del governo, di conseguenza Monti era appena stato nominato senatore a vita e quindi anche capo del governo e dopodiché sono stati nominati una serie di ministri incompatibili, scusate ma mi squillo il cellulare e non posso rispondere anche perché ho fretta di registrare e dover andare, dicevo una serie di ministri che di fatto sono stati nominati tecnici e quindi devono adottare misure senza badare agli interessi dei partiti per in qualche modo contrastare il default dell'Italia. Non sto a parlare dei ministri perché voglio venire subito al dunque, siamo a quasi metà gennaio, dunque si parla di liberalizzazioni per adeguare l'Italia alle regole antitrust europee e quindi si tratta un pochino di sbrogliare, di togliere un po' di ruggine dalle corporazioni che in particolare in Italia hanno una ricca tradizione e fondano la loro esistenza sul voto di scambio. Dai giornali di oggi si evince una sorta di omologazione di regime, quindi titoli assolutamente a effetto, Repubblica e Corriere aprono con le stesse identiche parole, addirittura la virgola la mettono nello stesso punto. Repubblica, farmacie e notai, virgola si cambia da un lato e il Corriere, farmacie e notai, virgola si cambia. Dunque un titolo in pandan, se così possiamo dirlo, in questa parola farmacie e notai non compaiono i taxi, bensì i taxi arrivano per esempio su Repubblica a pagina 2 sotto forma di farmacie trasporti, ecco i trasporti che riguardano appunto questa categoria, i taxi che sono molto forti, una lobby che è stata in grado di condizionare molti governi, si è mobilitata anche in passato contro qualunque forma di liberalizzazione, gli stessi sindaci di grandi città sono stati ricattati, Alemanno, sindaco di Roma è espressione un pochino di questo ricatto di questa categoria che ha minacciato insomma ancora di bloccare le città e di non caricare persone proprio perché non si vuole parlare di liberalizzazioni. Ecco la liberalizzazione dei taxi è un tema che a quanto pare tiene in bilico questo governo ed è oggetto di discussione anche oggi perché pare che insomma questi tassisti siano decisi a bloccare le città e soprattutto non abbiano capito i termini di queste liberalizzazioni. Allora si è parlato di liberalizzare cosa? Non di liberalizzare le licenze, bensì di in qualche modo permettere ai taxi di caricare le persone in comuni diversi rispetto alla licenza. Questo ha provocato una reazione incattivita da parte di quei taxi, di quei tassisti che hanno le licenze nelle città dove c'è molta richiesta, Milano, Roma, Firenze per esempio, perché se questa liberalizzazione entrasse in porto i tassisti delle città attorno potrebbero entrare nelle metropoli e caricare a loro volta, per esempio la sera quando ci sono molti giovani che escono dai locali potrebbero insomma arrotondare la giornata facendo concorrenza ai tassisti delle grandi città e questo perché non lo vogliono? Perché la differenza sostanziale è nel prezzo della licenza, quindi una licenza comprata a Milano costa 200 mila euro, 180 mila euro, una licenza comprata a Segrate piuttosto che magari a Trucazzano o in un paese piccolo può costare la metà, proprio perché il paese piccolo non ha l'offerta della metropoli e allora in vista di questo allineamento di concorrenza e quindi anche un possibile allineamento dei prezzi delle licenze è chiaro che molti tassisti si oppongono anche giustamente perché hanno messo tanti soldi e molti di loro hanno ipotecato casa, si sono fatti prestare i soldi dai genitori per poter fare questo investimento da 200 mila euro che secondo me è sconsiderato, se consideriamo che trasportare una persona è un pubblico servizio ma dovrebbe essere comunque, avere un prezzo un po' più modesto e invece questo è il problema. Il governo cosa ha detto? Il governo dice noi offriamo una licenza in più a coloro che già la possiedono in modo tale che la potranno poi affittare o vendere e quindi ricavare qualcosa, soprattutto a quei tassisti che hanno pagato cifre importanti queste licenze, però i tassisti non ne vogliono sapere perché anche in quel caso comunque rattoppiare le licenze a Milano per esempio, dando una licenza in più a tutti già i possessori significherebbe aumentare ovviamente il livello di concorrenza che i tassisti non vogliono in quanto ritengono di essere già in crisi, di pagare già una congiuntura economica gravosa che si ripercuote poi sul calo delle corse e dei viaggi e quindi anche degli incassi da parte di questa categoria di lavoratori. E allora si tratta di capire insomma cosa vogliono. I tassisti vogliono rimanere loro, quindi rimanere così e non di più, perché dicono è vero che a Londra e Parigi ce ne sono 3-4 volte di più, ma è anche vero che Londra e Parigi hanno 3-4 volte più abitanti di Milano, quindi la proporzione non è poi così diversa e da questo punto di vista non gli si può dare torto. Certamente c'è un'emergenza di lavoro che il governo in questo caso vuole tener conto, vuole sbloccare queste corporazioni e aprire alla libera concorrenza in modo tale che teoricamente anche il servizio di taxi potrebbe essere un pochino più selettivo visto che l'utente che sceglie il taxi potrebbe sceglierselo e non per forza andare sul taxi primo che trova, magari con un tassista che ha la macchina sporca, magari che è pure zoticone, che magari fa pagare anche di più, che ne sapete, quindi da un certo punto di vista anche il modesto servizio taxi potrebbe offrire, potrebbe migliorare anche a vantaggio del cliente nel momento in cui il cliente può scegliersi il tassista e dire dove andare perché i tassisti sono di più e quindi tutto questo in un momento di congiuntura potrebbe significare lavorare meno ma lavorare tutti. Questo riguarda i taxi, riguarda le farmacie, riguarda molte categorie professionali che sono su piedi di guerra, proprio perché non ne vogliono sentir parlare. Ultimo frangente che riguarda questi taxi, perché torno a ripetere, sui giornali non appaiono in prima pagina, appaiono farmacie e notai, lo vorrei far ben notare sia su Corriere che su Repubblica, farmacie e notai, mentre i trasporti appaiono nelle seconde pagine. Un altro aspetto di questa Chiarella, secondo me rappresenta in toto l'anomalia italiana, ossia dimostra che noi siamo un paese di ricattati e dimostra che forse è giunto il momento anche di sbloccare questa cosa anche a fronte di proteste, ossia se i tassisti si lamentano che hanno pagato 200 mila euro le licenze e non vogliono la licenza gratuita, però allo tempo il governo è possibilista nel dire noi vi rimborsiamo anche una quota di quello che avete sborsato, significherebbe per i tassisti dover dimostrare che questi 200 mila euro li hanno sborsati, ma siccome praticamente tutti coloro che hanno tirato fuori questi soldi tantissimi non hanno dichiarato tutto, non potrebbero chiaramente dimostrare al governo che hanno tirato fuori questi soldi perché molti li hanno pagati in nero e allora come fanno a dimostrarlo? Non possono avere la quota e allora nel momento in cui questa missione avviene sui giornali con le interviste dei vari rappresentanti sindacali che dicono queste cose, ossia che molti hanno speso 200 mila euro ma non lo possono dimostrare poi nei fatti, vuol dire che sono degli evasori o comunque hanno anche loro accettato il metodo del sistema, sono dei piccoli scaiola, hanno dichiarato 100 e hanno pagato 200 e allora vedete tutta la grande contraddizione farlocca di questo paese, la contraddizione e il comportamento farlocco di un sistema sbagliato che oggi presenta i nodi al pettine e uno di questi nodi è proprio il dover fare i conti con il dover sbloccare le corporazioni che in Italia sono particolarmente forti per poter aprirsi al mercato. Dunque adesso bisogna capire in che termini sarà questa liberalizzazione dei taxi, certamente il governo farà dei passi avanti, i partiti dicono che difendono le categorie perché sono espressione del loro voto, cioè i tassisti hanno votato la Lega Nord, hanno votato i deputati che poi ricattano Monti e gli dicono se liberalizzi i taxi ti votiamo contro, ma siccome Monti è espressione del ricatto delle banche far cadere il governo anche per il PDL non è conveniente perché chi li voterebbe più oggi? PDL e Lega con quello che sta succedendo in economia, nel lavoro e tutto l'indotto, per cui sarebbe una mossa suicida e allora c'è la pantomima, dunque Quagliarello che dice noi del PDL voteremo a favore di questa liberalizzazione però vigileremo, ecco la solita mediazione ipocrita politica dove dice da un lato molliamo e dobbiamo fare perché vogliamo stare qui sulle cadreghe perché se facciamo cadere Monti qua non ci torniamo più, dall'altro vigileremo cosa? Vigileremo sul fatto che bisogna arrivare a liberalizzare e a cambiare mentalità, entrare in una realtà diversa e rendersi conto che molti giovani, un giovane su tre senza lavori in Italia e quindi anche il taxi, la farmacia piuttosto che altre professioni in otai devono essere professioni più accessibili perché ovviamente essere più accessibili significa avere maggiore offerta a vantaggio del cliente ovviamente e anche magari perché no di una selezione naturale che andrà a premiare, mi auguro, i migliori anche in queste professioni che apparentemente sono, come dire, modeste. Chiudo questa rassegna stampa veloce di oggi con il fatto quotidiano, Malinconico ho pagato, sì, quattro anni dopo di Malinconico ho parlato nell'ultimo contatto di metà novembre, se ricorderete, quando era candidato a diventare pedina del governo e che già avevo ricordato che era oggetto delle intercettazioni, non era indagato, però era stato oggetto delle intercettazioni perché era amico della Cricca, si era fatto pagare gli alberghi a Porto Santo Stefano da appunto degli amici della Cricca e per cui insomma era un soggetto un pochino strano, lui come poi si è dibattuto sui conflitti di interesse del Ministro Passera, si è parlato della posizione dell'Avvocato Fornero che è diventata Ministro della Giustizia e quindi personaggi che non sono proprio così esterni al sistema, almeno guardando questo curriculum, però questo dovevamo aspettarcelo perché in un paese normale, visto che il Belgio è stato due anni senza governo, è rimasto in Europa e oggi c'è un Premier dopo 600 giorni, non vedo perché in Italia Napolitano non ha potuto sciogliere le camere e andare a libere elezioni, io credo che da questo punto di vista non ci sarebbero state grosse ripercussioni a livello economico, anzi magari ci sarebbe stata una botta di energia in più, però insomma Berlusconi è uscito dai giochi e adesso si prepara a dire avete visto? Monti ha liberalizzato i taxi, ha fatto questo, se stavo io questo non lo facevo, in realtà non è vero perché i suoi deputati sono tutti lì che sono riparati da Monti e dovranno votare quello che Monti dice perché altrimenti comunque finiremo male, anche se comunque siamo già un paese fallito. Grazie per questo incontro, speriamo di poterci vedere presto, devo scappare perché ho davvero da fare e ci sentiamo, ciao.